Edilizia libera, tutti gli interventi realizzabili. Se stai pensando a una ristrutturazione edilizia, potresti non aver bisogno di un permesso o di comunicare al comune. Vediamo quali interventi rientrano in questa categoria, chiamata edilizia libera. Il decreto ministeriale del 2 marzo 2018 ha approvato un glossario che elenca le opere che possono essere realizzate in regime di edilizia libera. Queste opere non richiedono titoli abitativi, permessi di costruire, né di comunicazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria, come riparazioni, rinnovamento e sostituzione di finiture, ricadono nell'edilizia libera. Puoi sempre rinnovare o sostituire pavimentazioni, intonaci, elementi decorativi e altri impianti già esistenti. Alcuni interventi innovativi, come l'installazione di antenne, impianti di illuminazione, protezione antincendio e di climatizzazione, possono essere realizzati a norma di legge in regime di edilizia libera. Ma ricorda, è importante informarsi sempre sulle norme paesaggistiche di zona.